Buonasera siamo con Angelo direttamente da Milano. Allora Angelo, quali tu sei i tre punti chiave che hanno mandato? Tre punti chiave, intanto c'è una bellissima struttura, grande ospitalità, grande animazione e grande animazione. E' un attore mancato, è un attore mancato, è un attore mancato, però ci siamo fatti abbastanza bene, specialmente i bambini, perché noi siamo ritrovati con i bambini che non si scompevano, quindi... E' passato un bel soggetto a i bambini, potete venire con i bambini e si troverà benissimo. Va bene, allora io ti ringrazio e ci saluto. Va bene, ciao!